Centinaia di frammenti e non essendo un meteorite magnetico, scusate un'altra cosa che mi sono dimenticato di sottolineare, non esistono metodi sbrigativi come per esempio andarsene con un metal detector, utilizzare un drone o cose del genere. Qui purtroppo si tratta di cambiare centimetro per centimetro, ma se la società geologica italiana vuole organizzare un field trip io vi porto, poi vi lascio lì, però vi porto. Con Leoni. Va bene. Ah, se non ci sono altre domande ringraziamo il professor Franchi, grazie soprattutto viste le condizioni di salute, quindi buon recupero. E passiamo la parola al professor Stefano Furlani, che è professore associato presso l'Università di Trieste e è professore, correggimi se sbaglio, in geografia fisica e geomorfologia. E oggi parlerà di questo progetto che si chiama Geoswim, che è un nome, un programma, perché ho letto il programma, è veramente affascinante. Lui è responsabile di questo progetto ed è un progetto di rilevamento geomorfologico a nuoto, quindi lungo le coste non solo italiane, ma penso del Mediterraneo. Cioè, si è iniziato dall'Italia, ma diciamo è un progetto ambizioso che penso che voglia coprire tutte le coste dell'area mediterranea. Esattamente. Quindi grazie per l'invito e ti lascio la parola. Grazie, lo devo condividere, giusto? Eh, condividi. Ecco, spero. Eh, condiviso? Sì, io vedo. Sì, io vedo. Ok, grazie. Allora, innanzitutto grazie per questo invito. Mi fa sempre molto piacere parlare di questo ambizioso programma, diciamo, di rilevamento di un ambiente particolare che è quello costiero, che ha dei problemi proprio per quanto riguarda il rilevamento, perché anche se, diciamo, noi geologi siamo abituati a lavorare in campagna, questa è una campagna un po' particolare, un po', diciamo, sui generis, che richiede una preparazione particolare anche per poter rilevare come si fa sulla terraferma, quindi tanti chilometri a nuoto e via dicendo. E quindi proprio per ovviare, diciamo, a questo, scusate, ecco, a questa mancanza, diciamo, di rilevamenti estensivi sulle coste rocciose, dieci anni fa ero appena entrato all'università come ricercatore e mi posi il problema di, diciamo, di poter raccogliere tanti dati per fare delle analisi statistiche con pochi, con pochissimi fondi. Io già mi occupavo di coste, di geomorfologia costiera, e questa idea, diciamo, di rilevare a nuoto veniva a pennello proprio. In questa presentazione mostrerò un po' intanto perché è nato questo programma, perché rilievi a nuoto perché, diciamo, il fatto di rilevare a nuoto permette di osservare la costa in maniera lenta, con più dettaglio. È un po' come, come dire, come differenziare il fatto di rilevare sulla terraferma in macchina oppure a piedi. Nessun geologo si sognerebbe di fare rilievi geologici in macchina. Sulla costa è un ambiente un po' più ostile, specie le coste rocciose, che hanno una logistica molto particolare e quindi diventa anche molto particolare il tipo di approccio. Però, detto questo, ok, ho deciso di rilevare la costa in questa maniera, però come? Nel senso, non è proprio esattamente l'approccio, anche se la mia idea originaria era quella di trasferire un po' il modo di rilevare sulla terraferma in mare. Non era così che si faceva di solito, ma vedremo che ci sono vari problemi da risolvere. Perché il Mediterraneo? Primo, sicuramente perché, diciamo, è il mare nostrum, è il mare dove vivo, quindi è quello che, come dire, che mi è più facile pensare di raccogliere dati, proprio per una questione anche di fondi scarsi, come dicevo prima, ma anche perché effettivamente il Mediterraneo si presta bene. È un mare che, idrodinamicamente parlando, è più semplice rispetto all'oceano. Nell'oceano, in molti casi, è possibile nuotare vicino agli squali. Ecco, noi preferiamo nuotare vicino solo alle coste. Quindi questo è un altro motivo per cui, diciamo, poi le maree sono piuttosto ridotte. Non abbiamo maree dell'ordine dei metri. L'altra domanda che cercherò di rispondere è per chi? Cioè per chi viene fatto tutto questo lavoro? Io dico per un certo, diciamo, le ragioni sono due. La prima è quella della creazione di un enorme archivio con immagini e dati che fotografano le coste in questo preciso momento. Quindi l'idea è quella di raccogliere informazioni che fotografino le coste in questo preciso momento, sia come fotografie vere e proprie, ma anche come osservazioni. Secondo, perché in questi dieci anni ci siamo accorti con tutti quelli che hanno collaborato, anche con questo progetto, che essendo zone pochissimo studiate, in realtà i dati che emergono sono molto molto spesso assolutamente innovativi, con possibilità anche a livello teorico di poter dire qualche cosa in più nella geomorfologia e nella geologia. Siamo geologi, siamo abituati ai tempi lunghi, il Mediterraneo, come vedremo, ha oltre 25.000 km di coste rocciose e quindi questi rilievi sicuramente prenderanno parecchi anni. Già in dieci anni abbiamo coperto circa 600 chilometri, ancora pochissimo quindi, però l'idea è quella di costruire squadre che siano in grado di fare questi rilievi e quindi probabilmente non vedrò finito questo programma entro il mio pensionamento, diciamo, per quanto sarà nel tempo. L'altra domanda è quella di dire ma finiremo mai questi rilievi? Forse anche no, perché come dire una costa vista oggi un rilievo di questo tipo ma anche migliorato potrà essere rifatto tra 20, 30, 50 anni, sapendo di avere una fotografia del passato a disposizione. In un tempo, in un momento in cui sappiamo che il livello del mare sta cambiando anche molto rapidamente, e via dicendo, un approccio di questo tipo può essere importante. Come, diciamo, descritto anche nella pubblicazione divulgativa, assieme a Fabrizio Antonioli, ricercatore che da dieci anni ha fatto con me quasi tutte le, diciamo, le campagne di Geoswim, abbiamo appunto descritto un po', non solo, quindi, in pubblicazioni scientifiche, come fatto prettamente finora, ma anche per divulgare, diciamo, e per dare una chiave, diciamo, a più ampio spettro. Quindi ringrazio anche dell'invito all'editor Enrico di Geologicamente per l'invito, ma anche l'altra pubblicazione di carattere divulgativo è quella relativa alla prima campagna del 2012, 250-60 chilometri a nuoto lungo le coste dell'Istria occidentale e del Golfo di Trieste. È nata come una campagna, diciamo, per metà sportiva, perché 250 chilometri in un mese è stato anche un grossissimo impegno sportivo, e per metà scientifico. Nel prosieguo, questo è stato l'arrivo a Trieste dopo 250 chilometri, ma dagli anni successivi, con la collaborazione di molti studenti e colleghi di varie università ed enti del Mediterraneo, abbiamo proseguito con un taglio decisamente, praticamente quasi solo scientifico, anche se i 60-70 chilometri che copriamo più o meno ogni anno continuano ad essere, diciamo, fisicamente importanti. se non altro perché per me gli anni passano e quindi, diciamo, anche lo sforzo aumenta pur con meno chilometri. Queste sono le campagne del 2013 a Malta, 2014 alle Isole Egadi, 2016 ad Anselonia, come dicevo, nelle varie, diciamo, nelle varie campagne hanno collaborato vari colleghi, di ricercatori, professori, di, diciamo, di discipline non solo geologiche, quindi non solo geologi e geomorfologi, ma anche biologi, eccetera, eccetera. Qui eravamo con Marco Taviani del CNR, ad esempio, Eleonora de Sabatra e via dicendo. E un riconoscimento è arrivato l'anno scorso con il tridente d'oro a Fabrizio Antonioli e nella motivazione di questo prestigioso premio internazionale per le attività subacquee rientra anche il progetto Geoswim, Quindi, diciamo, sono particolarmente contento di questo riconoscimento, di questo importante riconoscimento. Ma facciamo un passo indietro e parliamo un po' dell'oggetto di studio del programma Geoswim, ovvero le coste rocciose. Le coste rocciose coprono più della metà delle coste del mondo. E' difficile fare una stima vera e propria della lunghezza delle coste perché dipende essenzialmente dalla scala e la lunghezza è virtualmente infinita. Però, diciamo, ad una scala media è stata tentata una stima e si parla di un milione di chilometri. Penso anche su Wikipedia c'è qualche conteggio di questo tipo. Comunque, si trovano, qui ho messo alcuni esempi, in condizioni geologiche e climatiche molto diverse. Una classificazione globale, quella riportata sulla sinistra, è quella di Sunamura, che va molto bene per le coste, diciamo, le coste oceaniche e divide un tipo a short platform, quindi piattaforma costiera, e poi i plunging cliffs, cioè le pareti a picco. Ecco, questa è un po' la classificazione delle coste oceaniche, ok? In realtà nel Mediterraneo la cosa è un po' più complessa. Abbiamo pubblicato anche alcuni lavori, diciamo, per il Mediterraneo e abbiamo individuato le coste a picco o plunging cliffs, le coste digradanti, sono sempre coste rocciose, ma di aspetto diverso. Le coste a detrito, scris, ok? Le coste a falesia e piattaforma. Abbiamo inserito anche le pocket beaches, il termine italiano non so se è correttissimo, io mi occupo di coste rocciose, ma di solito si usa pocket beaches, ok? Quindi non sono prettamente rocciose, ma fanno parte del paesaggio delle coste rocciose. Ecco, nel Mediterraneo effettivamente abbiamo moltissimi esempi, ok? Questo è un lavoro pubblicato nel 2014 in cui, ricordo benissimo, durante le vacanze di Natale del 2013 che mi sono fatto tutto il giro delle coste del Mediterraneo con Google Earth per fare questa carta, ok? E differenziare quindi coste alte e coste basse. Non sempre è una distinzione rigorosissima, però diciamo che grosso modo una metà sono alte e una metà sono basse. Il problema è come vengono studiate le coste alte, perché questo... Allora, diciamo subito che il paragone coste alte e coste basse, in termini di letteratura scientifica, va a detrimento delle coste alte. Nel senso che ci sono pochissimi lavori sulle coste alte, moltissimi lavori sulle coste basse. Perché questo? Perché le coste alte sono estremamente più stabili, più rigide, si consumano molto di meno, hanno molte meno variazioni morfologiche. Quindi questo significa che anche dal punto di vista applicativo, ok, creano meno problemi, ok? Però, dall'altro lato, sono interessantissime perché, essendo estremamente conservative, fanno sì che molti marker, come quelli, ad esempio, delle variazioni di livello marino, si conservano e quindi possono essere studiati per valutare le variazioni di livello marino del passato. Però, ad ogni modo, tali coste sono sempre state studiate prevalentemente con osservazioni puntuali e principalmente su terraferma, cioè a partire dalla terraferma, anche perché in moltissimi casi non è facile studiare dal mare questo tipo di coste specie in contesti oceanici, ok? Molto spesso anche con metodologie di remote sensing, ma vedremo che c'è più di qualche problema. Quindi difficoltà logistiche, ok, sforzo fisico, perché appunto per pensare di nuotare molti chilometri bisogna anche essere pronti dal punto di vista fisico e quindi questa cosa è molto facile che scoraggi, diciamo, gli studiosi specie per quanto riguarda le coste a picco, ok? Ok. Aggiungo qua questo lavoro che abbiamo pubblicato da poco con un filosofo che cerca di mettere in luce come il livello del mare sia anche una sorta di confine metaforico, metafisico oltre che fisico, perché? Perché effettivamente l'accesso sottomarino è estremamente più complesso della parte emersa e questo lo si vede bene già a pochi metri di profondità, anzi, come lo abbiamo messo in evidenza con il programma Geoswim, anche sul livello stesso del mare, perché lì è difficile raccogliere dati e in moltissimi casi non si è raccolto assolutamente niente. Noi stiamo cercando, con molta difficoltà, per certi versi, di colmare questo diciamo questa carenza. Ci sono molti pregevoli lavori, a cui ho partecipato anch'io peraltro, che hanno cercato di raccogliere dati sparsi a livello anche di Mediterraneo su questioni specifiche, ma comunque sia, in tutti i casi si tratta di dati puntuali, cioè di dati che raccolgono valori, ad esempio presenza e assenza di solchi marini, come nel caso di Antonio Lettale 2015 abbiamo raccolto 78 siti di solchi marini in giro per il Mediterraneo, però sempre siti puntuali. Noi con Geoswim invece l'approccio è quello in continuo lungo stretch di costa. L'altro grande problema è quello di mettere assieme dati raccolti anche da remote, che oggi insomma sono assolutamente, si utilizzano moltissimo, ad esempio dati LiDAR per la parte emersa e multibeam per la parte sommersa, ma purtroppo rimane il grosso problema di mettere assieme la parte, cioè il sopra con il sotto, perché sono due ambienti distinti che presentano problematiche distinte e nella zona intertidale si complica tutto. sono stati fatti molti, alcuni tentativi recentemente, riporto qua Fulani Italia 2020, ma anche i lavori del gruppo di Remondino, soprattutto su strutture ingegneristiche, hanno cercato, stanno cercando di colmare questi problemi. In questo lavoro appunto abbiamo unito il sopra con il sotto in un esempio di una struttura di un molo, ok? E anche poi ve lo mostro dopo con in altri casi studio, ok? Ma vediamo un po' che cos'è nel dettaglio il programma Geoswim. Geoswim è un approccio di rilevamento, come si diceva, a nuoto delle coste rocciose, con maschera e pinna, quindi il cosiddetto snorkeling, ok? Di solito lo si usa per guardare, diciamo, il paesaggio sommerso, ok? I pesci, gli organismi bentonici, ok? Il paesaggio sommerso, come me, ma, diciamo, nuotando e facendo osservazioni della costa, quello che facciamo sopra e sotto il, diciamo, il livello del mare, raccogliamo anche immagini in timelapse, quindi in continuo della zona intertidale. rileviamo le forme costiere, ok? E le caratteristiche chimico-fisiche con strumentazione apposita che spingiamo su un zatterino appositamente costruito. Questo è il modello concettuale pubblicato nel 2020, ok? su Marine Geology. Quindi, qual è l'idea? Quella di raccogliere dati strumentali da un lato e dati osservativi dall'altro, strumentali e osservativi, che confluiscono in un database. Dati strumentali da fotocamere, da una a più fotocamere, anche fino a 8-10, ok? E da sensori per misurare la temperatura, la conducibilità, la profondità, la torbidità, tutto quello che si può, più ce n'è, meglio è, ok? Mentre dalle fotocamere, ad esempio, i dati dai sensori possono servire per individuare le sorgenti di acqua dolce. I dati dalle fotocamere servono per creare modelli tridimensionali della costa, oppure per avere un database, una fotografia istantanea della costa in quel preciso momento, ok? Tutto questo finisce in un archivio, in un database, ok? Implementabile, ovviamente, che permette di fare dei modelli evolutivi delle coste rocciose. E poi ci sono i dati osservativi, ovviamente, geologici, biologici, idrogeologici, geomorfologici, eccetera, eccetera, a seconda anche dei rilevatori che partecipano alla campagna. Se non ci sono biologi, ok? Le osservazioni che posso fare io personalmente sono quelle dell'esperienza un po' acquisita negli anni, ma non da biologo vero e proprio e via dicendo. Quindi, a seconda dell'operatore che in quel momento è a disposizione, anche i dati sono, diciamo, possono variare e anche a seconda delle esigenze. I rilevamenti a nuoto rappresentano assolutamente una novità, ok? Il tipo di rilevamento può essere classificato come una spedizione o un viaggio lungo, con obiettivi specifici, in questo caso scientifici e di esplorazione e geografici. Tanto per dire, più di qualche volta abbiamo scoperto delle grotte nuove che non erano conosciute dai Catasti, ad esempio. tanto per fare un esempio. La spedizione è un tipo di campagna che implica un unico rilievo rapido, diciamo. quindi se uno, diciamo, è interessato ad approfondire alcuni aspetti, poi può tornare. Per dire, stiamo pubblicando un lavoro sulle grotte dell'isola di Gozo. Abbiamo fatto un giro di tutta l'isola di Gozo, 70 km. Abbiamo raccolto tutta la posizione di tutte le grotte e alcune osservazioni più specifiche, misure di profondità, di lunghezza di alcune grotte. Poi siamo tornati in un secondo momento a fare un rilievo specifico anche con le bombole, sott'acqua, per raccogliere ulteriori dati. Quindi questo funziona proprio come qualsiasi altra campagna. Le prime esperienze appunto sono partite nel 2012 con questo grosso progetto che è stata la più lunga per ora campagna, se non altro per una questione di tempo appunto, perché nel 2012 poi sono entrato all'università, e per questioni proprio diciamo accademiche non ho avuto più a disposizione due mesi liberi, mi sono serviti qua per la prima campagna. Abbiamo pubblicato anche i dati della prima campagna. Fino a quel momento non è mai stata, diciamo, fatta un'altra esperienza simile né in Italia né nel Mediterraneo né in altre parti del mondo. Da quel momento il progetto doveva finire là. L'idea era quella di chiudere là. Ma poi su invito, diciamo, di Timi Gambi, un teologo maltese, il professor Timi Gambi dell'Università di Malta, mi ha invitato a Malta. Siamo scesi giù. La prima campagna è stata in solitaria. Quindi 250 chilometri praticamente solo, salvo due singole giornate, una con una collega e l'altra con mia moglie. Quindi veramente, diciamo, però dall'anno dopo invece sono stati coinvolti studenti Fabrizio Antonioli e Timi Gambi. e la dottoressa di Tiangauci sempre dell'Università di Malta. E da lì sono partite tutte le campagne scientifiche. Per ora abbiamo coperto oltre 20 aree e oltre 600 chilometri di Costa. Vedete un po' in particolare in Italia, ma anche, diciamo, a Malta, in Grecia, in Croazia. Ed è un programma che sta continuando anno dopo anno. Ecco, l'approccio, l'approccio di GeoSwim. È appena uscito questo lavoro che abbiamo pubblicato con Fabrizio Antonioli, pubblicato su GeoMorphology, che fa il punto sulle missioni finora compiute e sull'approccio e sul database. Vedremo quindi questi punti, cioè come nuotare e rilevare. La prima cosa, nuotiamo così senza niente? No. Abbiamo a disposizione un barchino, ok, sul quale è montata tutta la strumentazione. tale barchino mi sembrava un po', diciamo, poco dignitoso, dopo anche tutto il lavoro di progettazione fatto, chiamarlo solo barchino, quello è un termine che usiamo tra di noi, ma usiamo anche questo termine un po' più, diciamo, un po' più colto, un po' più, diciamo, anglofono di ISR, cioè Instrumental Supported Rafter, cioè una zattera sulla quale è montata la strumentazione. Questo oggi fa parte di una flotta di barchini e kayak che vedremo dopo, che vengono utilizzati o come supporto o come mezzo proprio su cui si trova la strumentazione per tutti i lavori di rilevamento. Strumenti che utilizziamo, problemi di navigazione, perché una navigazione è sotto costa, quindi non semplicissima dal punto di vista nautico, come dire, nel senso che se c'è mare, se ci sono condizioni particolari, può essere difficile e anche in quel caso pericoloso. Che tipo di dati raccogliamo, vedremo dopo, strumentali e osservativi. Quali sono tutte le problematiche connesse al salvataggio dei dati, alla registrazione dei tempi e delle coordinate, quindi GPS e via dicendo. Comunicazione tra strumenti con il server e archivio di tutti questi dati, che sono tutte questioni, oserei dire, su cui stiamo lavorando da dieci anni, ma non c'è ancora nulla di concluso. Progettazione delle spedizioni, cioè come vengono progettate e quali sono le limitazioni anche, perché non è sempre possibile rilevare dappertutto. Ci sono problemi sia di carattere, diciamo, tecnico, poche volte, ma molte volte anche di carattere proprio legislativo, delle limitazioni archeologiche, ad esempio, zone militari, eccetera, eccetera. Allora, questo è il barchino, lo chiamo in maniera informale, è una zattera, un zatterino fatto dalla spora sub per la pesca, però poi l'ho appositamente modificato per poter ospitare tutta la strumentazione, che è di vario tipo, dopo vedremo, si va dalle fotocamere, qui ce ne sono messe tre, ne ho messe nel corso del tempo fino a otto in tutto, quindi c'è, perché, diciamo, per la modellizzazione, avere dati in eccesso va sempre bene. Ecco, il barchino è lungo un metro e quindici, larghezza quasi 0,60, altezza più o meno 15 centimetri, peso 3 chili, che con la strumentazione poi diventano anche 10-15. È costruito con un polimero particolare, Ewa si chiama, Ewa, che è virtualmente inaffondabile, ha detta almeno dei costruttori. Poi io ci ho fatto parecchi buchi, quindi, però, diciamo, non ha mai avuto problemi di galleggiamento, comunque. Il barchino, nato nel 2012, l'idea addirittura era quella di nuotare e di fermarsi la notte nei vari campeggi, diciamo, che lungo la costa croata, quindi dovevo mettere qui una tenda ed altre cose, però dopo si poneva un problema grossissimo di salvataggio dei dati. Cioè ogni sera, dopo aver fatto 10 chilometri, si trattava di salvare tutti questi dati, ok? Quindi negli anni poi le versioni del barchino sono cambiate, ok? Ecco, questa è una versione più recente, anche perché ogni anno ho aggiunto strumentazione, perché l'idea era quella, già che facciamo questo sforzo di fare chilometri a nuoto, tanto vale che raccogliamo più dati possibile, ok? E anche in merito ai costi di cui si parlava prima, diciamo, a seconda delle disponibilità finanziarie, è possibile raccogliere più o meno dati, fare tratti più o meno lunghi, eccetera, eccetera. Nel senso, è possibile montare anche un multibim, però bisogna averlo a disposizione, diciamo, ecco. La cosa importante è avere una ridondanza di dati. Ad esempio, dati più GPS, in modo che se qualche strumento prende acqua e non funziona più, finisce la batteria, ci si dimentica di far partire lo strumento che capita spesso, c'è una ridondanza. Questi sono alcuni momenti dei rilievi, anche con strumentazioni diverse, diciamo. Ecco, alcuni modi in cui è stato usato il barchino. Qui alle Tremiti nel 2021, una campagna con l'ISPRA. Qui avevamo varie camere sopra e sotto e a metà anche un sonar e due camere a 360 gradi sopra e sotto il livello del mare. Ecco, oggi abbiamo a disposizione una flotta con più barchini di varie tipologie, varie dimensioni e anche un kayak che viene utilizzato prevalentemente per supporto ai rilievi con il barchino, perché con il kayak è più difficile nuotare lentamente e sotto costa. Questo è un kayak a pedali, quindi ha un certo pescaggio ed è facile che quando si nota, diciamo, si sta a uno, due, cinque metri dalla costa, ci siano degli accidenti topografici che non permettono di navigare nella maniera giusta e si rischia di spaccare tutto. Ecco, le camere sono una parte importantissima della strumentazione, ok? Ecco, questa era una configurazione del barchino, ok? Con le sonde in posizione sommersa e le fotocamere, ok? Qui eravamo a Lampedusa nel 2020, qui il lavoro è stato fatto esclusivamente dai miei collaboratori, dottorandi, dottorandi anche sia dell'Università di Trieste che di Palermo, che parteciparono perché io pochi giorni prima mi sono spaccato il labbro, quindi non sono potuto scendere in acqua, ma ho fatto solo, è stata l'unica volta che non ho fatto nessuna tappa. Qui avevamo due barchini separati per raccogliere i dati strumentali. Questo qui era una sonda appositamente costruita per misurare conducibilità e temperatura in maniera continua e i dati posizionati con il GPS e direttamente inviati al server. La progettazione è stata fatta da un istituto tecnico di Trieste. Ecco, questi sono alcuni dati che prendiamo, queste sono le sonde di ICTT Divers, che servono per misurare la conducibilità e la temperatura. Questo è un esempio di log in continuo sulla costa triestina, tra Sistiana e Luino, Golfo di Trieste, con queste variazioni in negativo di conducibilità e temperatura legate alla presenza di grandi sorgenti di acqua dolce. sono abbastanza comuni lungo le coste di Trieste per la presenza del Timavo, un fiume sotterraneo che ha anche delle bocche, diciamo, le cui acque defluiscono anche in profondità. posizionamento delle camere, queste sono delle immagini a 360, facciamo video a 360 da cui è possibile raccogliere delle immagini e fare modelli tridimensionali della costa. Questi sono alcuni esempi, questo abbiamo pubblicato nel 2020 su Remote Sensing e diciamo che la risoluzione di questi modelli permette di fare degli studi molto specifici. Adesso, proprio in questi giorni, ci stanno lavorando due dottorandi, una dottoranda dell'Università di Trieste in collaborazione con un dottorando cinese per il post-processing delle immagini raccolte sopra e sotto il livello del mare. Questo è un software che permette di visualizzare le due foto in contemporanea. Questo è un esempio, un altro esempio di modello combinato per attaccare, diciamo, la parte sopra, la parte sotto e poter fare quindi delle interpretazioni di tipo, nel mio caso personale, di tipo geomorfologico. In molti casi, le immagini prese perpendicolarmente alla costa sono molto utili perché, a differenza delle acquisizioni fatte con il drone, sono molto più vicine alla parete e prese perpendicolarmente, quindi permettono di dettagliare molto meglio la zona più vicina, alla zona intertidale e soprattutto le pareti verticali. Questa è una ricostruzione mettendo assieme fotografie in time-lapse perpendicolari sopra e sotto il livello del mare con il modello fatto dal drone, una nuvole di punti combinate. Vengono anche fatte delle analisi sulle immagini di carattere diverso per caratterizzare i tratti di costa. Stiamo lavorando in questo senso per far sì che, per utilizzare metodologie di machine learning e fare questa cosa in maniera automatica. Attualmente stiamo anche acquisendo di molte grotte in cui entriamo un'acquisizione con il LiDAR che permettono di fare misure delle grotte costiere molto molto più dettagliate che non misure con il metro che molto spesso sono anche complesse da fare. Questo è lo schema che abbiamo pubblicato su GeoMorphology dell'archivio, cioè come funziona l'archivio di GeoSwim. Funziona per giornata di rilevamento, cioè tutti i dati vengono archiviati per giornata di rilevamento. Quindi sostanzialmente usciamo, raccogliamo i dati di un giorno, fotografie, dati GPS, video, dati battimetrici, dati idrogeologici, tutti questi finiscono in cartelle e file appositi. Viene anche scaricato il libretto di campagna, che di solito lo tiene chi è o sul kayak oppure sul gommone di appoggio, in cui viene segnalata la posizione di tutte le forme costiere, grotte, solchi marini, la presenza di marmitte sommerse o emerse, solchi o archi marini, faraglioni, o la presenza di, ad esempio, di sorgenti sottomarine, di acqua dolce o osservazioni biologiche. Tutto ciò di solito viene anche corredato da una ricerca preventiva o posteriore su tutte le immagini storiche disponibili su quel tratto di costa. Come rileviamo? Noi di solito nuotiamo parallelamente alla costa. Quando? Primavera, estate e autunno. Qua ho dimenticato di scrivere estate, ma è la stagione privilegiata, comunque dalla primavera all'autunno, soprattutto grazie alle migliori condizioni meteomarine. Non sempre per quanto riguarda la presenza, diciamo, di barche, eccetera, eccetera, però prevale, diciamo, l'aspetto della temperatura. Abbiamo fatto anche delle campagne invernali brevi. La rotta, come dicevo, è parallela alla costa ad una distanza variabile da 1 a 5 metri più o meno dalla costa. Delle variazioni sono possibili, in particolare a causa della topografia locale, perché ad esempio sott'acqua ci possono essere massi, la topografia può essere molto complessa. Ho visto una complessità molto, molto alta, soprattutto sulle coste granittiche, ad esempio alla Maddalena. Lì proprio ci sono blocchi che emergono dappertutto ed è difficile proprio stare su quella che è la linea di costa vera e propria dell'isola o della costa. Oppure anche per il peggioramento delle condizioni del mare, per cui è necessario spostarsi un po' più a largo. In alcuni casi bisogna chiudere la giornata e tornare. Arriva. La navigazione va a una velocità lenta, da uno o due chilometri all'ora. Addirittura con il kayak non è possibile navigare così lentamente. Ecco, questo è uno schemino che avevo pubblicato con le modalità con cui facciamo questi rilievi. Le immagini in time-lapse vengono acquisite ogni mezzo secondo, perché questa è la risoluzione minima che serve per costruire poi dei modelli dei modelli decenti, diciamo, della costa. In alcuni casi abbiamo utilizzato tutte le fotografie per piccoli tratti di costa. Ecco, questa era proprio sulla costa della Maddalena, in Sardegna. Ogni tanto vengono fatti dei sopralluoghi, perché è importante vedere prima dove si va, insomma, dove è possibile. Questi sono i dati che raccogliamo, ok? Quindi dati strumentali e dati osservativi. Come vi dicevo prima, strumentali, temperatura, conducibilità elettrica, profondità, eccetera, eccetera. Profondità sia in continuo che in qualche caso anche con un ecoscandaglio portatile, la profondità, diciamo, di determinati punti di interesse. E poi dati osservativi come grotte, sorgenti, ma anche oggetti biologici, ok? Ad esempio abbiamo censito la patella ferruginea sulle coste, diciamo, della Sardegna, che è considerata una sorta di panda del Mediterraneo in quanto a, diciamo, alla possibilità che scompaia nel giro di pochi anni. Stefano, scusa, altri cinque minuti, perché così rimaniamo nei tempi e lasciamo lo spazio anche alle idee per la didattica. Certo, certo. Ecco, questi sono alcuni esempi di target geomorfologici, ok? Che vengono combinati con altri dati, ad esempio archeologici, che abbiamo anche avuto la possibilità di approfondire in queste campagne e quindi, ecco, possono contribuire, ad esempio, agli studi sul livello del mare. Ovviamente non ci sono solo pro in questo tipo di approccio, nel senso che, ad esempio, ci sono anche dei problemi, cioè i pro sono che viene fatta veramente un'indagine estensiva delle coste rocciose, ok? A larghissimo spettro. Ed è un approccio piuttosto a bassissimo costo, ok? Volendo si può, con una macchina fotografica e un barchino si può notare. L'ho fatto, diciamo, ecco. E quindi, però, diciamo, è un metodo che può essere time consuming, perché notare per molti chilometri è anche faticoso e può essere, diciamo, influenzato dall'osservatore, ok? Però questo accade sempre in geologia. Ecco, diciamo, dopo chilometri in cui si nuota si è più stanchi, quindi se le tappe sono molto lunghe, ovviamente gli ultimi chilometri possono essere affetti da problemi. del resto c'è l'opportunità di ampliare, di migliorare la tecnologia e quello su cui stiamo lavorando, diciamo. Per il futuro ci sarà a disposizione un database corposissimo con una fotografia delle coste attuali. Chiunque potrà prendere queste immagini e fare un raffronto nel tempo, ok? Però, ad esempio, le condizioni del mare possono creare grossi problemi. La vita delle batterie, ok? È capitato spesso che ci siamo dimenticati di cambiare le batterie delle macchine sotto o sopra, quindi abbiamo perso dei dati. ma comunque questo fa parte proprio del cosiddetto field, ok? Direi che posso chiudere qua la presentazione. Diciamo, per quest'anno, tanto per cui io avevo delle immagini che non erano fatte per questa presentazione o la seconda parte, diciamo. La prima parte si era dedicata. finirei questa presentazione con questo slide. Scusate la velocità. Eccola, ho sbagliato. Vado subito all'ultima slide. All'ultima slide, che è quella di che cosa faremo quest'anno, ok? Perché è la domanda che spesso mi viene rivolta. Quest'anno abbiamo in previsione per il momento tre campagne, una a Pozzuoli, una nella zona di Dubrovnik, in Croazia, e l'altra a Scilla. Quindi queste sono le tre campagne. Per chi fosse interessato è possibile seguire sulla pagina Facebook di Geo Swim, oppure adesso stiamo implementando anche la pagina internet, che non è molto, molto, al momento, però molto pronta ancora. Grazie a tutti, grazie di aver seguito, e grazie agli organizzatori per l'invito. Grazie mille, Stefano. Allora, se qualcuno ha domande o curiosità per questo progetto super ambizioso, molto interessante, chiedono perché Pozzuoli. Sì, ma Pozzuoli in realtà, come spesso è accaduto, diciamo, in questo progetto, deriva da un invito specifico. Cioè, avevamo un progetto che non c'entrava in realtà con questo, ma di solito quando poi, diciamo, se vado in un certo posto, vuol dire, magari per altre questioni, è possibile che magari cerchiamo anche di organizzare qualche tappa, diciamo. Quindi, in questo caso qua, nasce dalla collaborazione con Pietro Auccelli, Gaia Mattei dell'Università della Partenope, e con un'associazione di Napoli, diciamo, che mi ha invitato nell'ambito di un progetto specifico, diciamo, ma di tipo divulgativo. La dottoressa Anna Rusolillo in particolare e quindi abbiamo detto, vabbè, mettiamoci dentro anche qualche chilometro in più che non fa mai male, diciamo. Poi è ovvio che il tipo di analisi in questo caso qua non riguarderà tanto i bradesismi, che sono ben studiati anche dai colleghi proprio della Partenope, ma riguarderà diciamo le forme e la variazione laterale delle forme vulcaniche in ambiente costiero, diciamo, ecco, presumibilmente in aprile-maggio faremo questo. Va bene. Allora, se non ci sono altre domande, ringrazio Stefano per l'interessante intervento e... No, io no, penso mai sono inconvenienti. Lascierei la parola alla professoressa Occhi Pinti e mi scuso di non averla presentata all'inizio perché la professoressa Occhi Pinti ormai è in questi seminari, alla fine dei seminari che ripropone diciamo i due temi dei seminari in chiave didattica, quindi quelli che possono essere gli spunti poi per riproporre diciamo questi temi nelle classi. Quindi Susanna ti lascio la parola e scusami ancora per non averti presentata all'inizio. Non c'è un problema se mi sentite bene adesso metto lo schermo intero e grazie. Io sono sempre abbastanza veloce e spero anche utile. Quindi grazie ai presenti io ringrazio anche geologicamente perché per me questo lavoro che mi sono voluta prendere di proporre delle idee per la didattica prendendo spunto appunto dagli articoli scientifici spesso anche molto impegnativi sia per chi lo legge che non è uno specialista sia per trasformare gli strumenti per la didattica è una sfida che però mi costringe a studiare e questo è un'occasione sempre formidabile approfondire e nello stesso tempo condividere questa passione che io ho di quelli che chiamo le connessioni impreviste e cioè queste occasioni di approfondimento di apertura delle scienze della Terra verso altri argomenti delle scienze della Terra io uso sempre il termine complessità in senso l'origine latina intrecciate assieme tanti argomenti ma anche altre materie in abito scientifico o in abito addirittura letterario quindi non va inteso come un atto di presunzione quello di pensare di tradurre semplificare o anche spiegare da scienziato ma esclusivamente come insegnante o quantomeno ex insegnante cercare di trovare da questi articoli per il lettore insegnante delle idee delle strade dei sentieri degli strumenti che facciano incuriosire gli studenti che li facciano interessare e magari gli facciano crescere la passione riprendendo un po' il suggerimento che il professor Franchi faceva del dover far crescere questo interesse diciamo in generale per le STEM ma io punto sempre sulle scienze della Terra allora i due articoli erano molto diversi e quindi hanno mi hanno costretto a dei percorsi diversi in realtà su Motopi Pan tutta la parte legata alle mie idee la trovate su geologicamente quindi io non mi dilungherei più di tanto nel senso che di fatto i meteoriti sono anche argomenti curricolari quando si vuole escono entrano nel curricolo perché ci sono molti collegamenti con aspetti più o meno scientifici anche umanistici che possono permetterci di partire dai meteoriti quindi piuttosto che riproporre cose che troverete scritto pensavo di fare mi viene spontaneo un approfondimento che è legato alle competenze noi abbiamo ovviamente come obiettivo quello di far crescere le competenze o competenze che nell'ambito delle scienze della Terra sono potentissime ad esempio la relazione di causa-effetto e poi passando verso le soft skill la competenza di essere critici allora uno degli spunti che mi è sembrato indispensabile era in meteorite e dinosauro oramai anche nei libri delle primarie si trova questo che 66 milioni di anni fa accade sullo Yucatan un meteorite che non ha niente a che fare con quelli che abbiamo visto prima perché sono praticamente 10-12 km di diametro e che come sappiamo produce la quinta estinzione di massa quindi non è certamente l'unico caso tutti i meteoriti tutti i dinosauri muoiono all'istante in un modo che è molto una storiella raccontata in questa maniera a me viene sempre in mente Newton seduto sotto l'albero che siccome gli cade una mele in testa elabora grandi principi o Madame Curie che si sveglia di notte e vede la peglenda luminosa e anche qua si merita un Nobel in realtà credo che il senso se la causa-effetto è acquisita qualora mai da tutti il legame con altre con cause meriterebbe di essere tutto presente ma proprio per aprire la testa e non limitarci a collegamenti così immediati per quanto validi ad esempio la messa in posto dei traps del Deccan che sono però 300 milioni di anni dopo leggendo emerge che forse più che una con causa sono un fattore mitigante perché l'anilide carbonica che emettono intensifica l'effetto serra quindi pare che l'estinzione di massa nell'emisfero sud anche tenuto conto delle superfici diverse quindi naturalmente le variabili sono molte ma sono punti da prendere in considerazione sembra essere stata meno intensa che nell'emisfero nord e poi c'è un altro aspetto importantissimo che in questa estinzione di massa non sono certo solo i dinosauri che quindi bisogna considerare nel loro nella loro complessità i vari viventi coinvolti ad esempio le ammoniti sappiamo che le ammoniti erano forse un po' un collo di bottiglia evolutivo si erano srotolate si erano costruite spine noduli per resistere presumibilmente ai predatori quindi che si siano istinte definitivamente per questo effetto del meteorite CX-Club ci può anche stare invece ricordo che i dinosauri erano in piena radiazione adattativa molti si erano prese penne e piume ed erano volati via altri avevano sangue caldo in relazione alla loro massa alcuni già nel giurassico erano ovvi vipari avevano anche loro un buon cervello avevano probabilmente un'attitudine alle cure parentali come quei bellissimi nidi del deserto dei Gobi e quindi bisogna capire quanto effettivamente questo meteorite abbia avuto questa azione un altro collegamento sempre legato a questo molto velocemente cioè all'azione causa-effetto la troviamo nel meteorite la nasce della vita il meteorite forse l'immagine precedente ma non è importante in un libro delle secondarie di primo grado io ho trovato in una pagina quali potevano essere state le cause quindi partiamo dal creazionismo perché no la biogenesi Redi con la sua ciotolina e la garzina sopra la sequenza Miller che va per la maggiore e nell'angolino un omino verde a cavallo di un meteorite ritenuto alquanto improbabile come responsabile o corresponsabile della nascita della vita in realtà i dati che sembrano emergere che sicuramente acqua sia arrivata sulla terra anche dai meteoriti e che alcune macromolecole organiche siano state rilevate sui meteoriti quindi non chiudiamo questa porta e quindi ripariamo al fatto che la ricerca deve essere una porta spalancata e che ai nostri studenti va veramente fatto venire voglia di approfondire queste scoperte il secondo articolo era un po' più sfidante perché onestamente pensare di portare i nostri alunni a fare geoswim è un po' improbabile io l'ho fatto una volta ed è stata un'esperienza bellissima ma credo sia stata un'eccezione quindi anzi sicuramente e quindi mi sono posta al problema di dire analizziamo le coste mi permetto di dire che a prima vista sembrava un po' banale perché l'analisi delle coste è parte del curriculum sia di geografia che di geostoria che della geomorfologia quindi in realtà di banale come ben sappiamo non c'è niente perché se io parlo delle forme che normalmente si studiano a scuola se parliamo delle Rias parliamo di bradisismi parliamo di trasgressioni e regressioni se parliamo dei fiordi parliamo ah scusate dovevo andare avanti quindi era arrivata Giulia Verne se parliamo dei fiordi possiamo parlare dell'isostasia delle glaciazioni e ad esempio di questo modellino che ho trovato sull'isostasia molto carino per spiegare le diverse teorie o comunque per spiegare l'isostasia se parliamo delle scogliere di Dover oltre a parlare dei movimenti sia rispetto all'altezza del mare che rispetto agli scogli beh parliamo anche di super vulcani di Anton Java quindi fenomeni sono tantissimi e poi la tentazione di girare lo sguardo verso il mare e quindi parlare di depositi sottomarini costieri quindi canyon sottomarini depositi di torbi da flisce con le forme particolari che assumono la tentazione poi qui mi sono cercato di trattenermi ma ho fatto un po' fatica perché la voglia di arricchire proprio questi questi argomenti era tantissima ad esempio parlare dei guio e quindi dei noduli polimetallici ma anche perché dagli articoli che ho letto recentemente questa è la prossima corsa loro quindi queste strutture che contengono probabilmente una discreta quantità appunto di metalli e che nel momento in cui si deciderà di intervenire facendo della ricerca mineraria e poi dell'estrazione di questi minerali si distruggeranno degli ecosistemi che pare addirittura abbiano delle simbiosi tra le spugne e questi noduli e ancora scoperta da parte mia che quando vediamo questo bel modello dei fondi oceanici in realtà ha un potere di soluzione molto problematico cioè se noi ragioniamo con i satelliti è chiaro che è più nota la morfologia di la geografia se vogliamo di Marte che quella dei fondi oceanici ad esempio risale a una ventina di anni fa il fatto che la dorsale oceanica che nel suo termine ha un'idea di morbidezza in realtà delle pareti che sono più alte della Nord Liger anche 5.000 metri e che soltanto in seguito ad incidenti aerei viene approfondita è stata studiata con appunto con l'utilizzo di sonar altri aspetti che ritenevo a questo è per me un atto dovuto esattamente come all'ultime Olimpiadi delle Scienze della Terra avevo istituito un premio Mary Henning per premiare le ragazze con i risultati migliori come potevano accennare Maria Tarp che nel secondo dopo guerra si è trovata a studiare i dati del fondale oceanico quindi geologa oceanografa matematica una persona sicuramente eccezionale ma come ogni donna non è stata accettata in barca almeno in quell'epoca ma anche alla mia epoca gallerie, miniere, piattaforme non erano diciamo possibilità lavorative in realtà lei è studiando la dorsale quindi i dati che il suo collega Isen gli forniva ha appurato l'esistenza di un solco in mezzo alla dorsale atlantica che le ha fatto venire in mente la teoria di Wegener naturalmente ma parlare di Wegener nel secondo dopo guerra poi negli Stati Uniti era scandaloso quindi era stata tacciata di chiacchiere femminili da donnicciola pettegonezzi da donnicciola in realtà ci sono poi voluti forse più di vent'anni perché il suo nome finisse in un articolo ovviamente per ultima quando pure un filosofo della scienza come Kuhn ha ritenuto che queste teorie quindi a partire dalle sue affermazioni erano forse una delle più grandi rivoluzioni scientifiche ancora un argomento come si fa a non parlare di variazioni del livello del mare anche perché i collegamenti qui sono veramente infiniti io mi limito ad accennarli vabbè Milankovic e le variazioni quindi l'abbassamento del livello del mare quando si forma aumenta il ghiaccio sono tutte informazioni relativamente note però vorrei anche ricordare che ci sono stati momenti in cui il Mediterraneo era talmente basso e parliamo ad esempio della crisi di salinità del Messiniano quindi ho perso un pezzo quindi siamo intorno ai 5 milioni e mezzo di anni fa hanno ridotto il Mediterraneo a una laguna salata si era chiuso sia perché si era abbassato il Mediterraneo sia perché si erano chiusi gli due sbocchi quindi il nord nordbetico e il sud rifano quindi gli sbocchi che andavano verso l'Atlantico questa laguna ha prodotto ovviamente tantissimi spessori di torbediti quindi la famosa formazione gestosa solfifera io ho tentato anche dei collegamenti perché in realtà questi depositi sono ritrovati si trovano in Toscana e quindi avevo tentato di collegarlo con l'alabastro di Volterra ma era troppo sbagliata all'epoca ho visto questi depositi in Sicilia anche questi bellissimi e ho tentato di collegarlo con Rosso Malpelo quel povero ragazzo che non solo muore dalla sua storia ma viene così maltrattato durante gli esami di stato in realtà lui lavorava in una cava di rena rossa che ha a che fare sempre con la geologia perché insomma è un materiale scottato delle eruzioni ma non un legame appunto con questa fase infine dobbiamo parlare di aumento del mare eccolo lì perché l'ho saltato e questa era la documentazione quindi la maniera di salgemma spettacolare e quindi la formazione di queste lagune la sequenza di sedimentazione ci porta diritti alla chimica perché ovviamente è inversa al grado di solubilità quindi un collegamento che viene assolutamente immediato e infine l'innalzamento se ne sarà tantissimo l'unica suggerimento che mi viene è ultimamente vedo che Google Earth ha fatto dei filmati veramente eccezionali se vogliamo far colpirci e colpire con quello che può succedere o che succederà se non interoppiamo questo ciclo di riscaldamento però il collegamento che a me piace sempre moltissimo in realtà ho trovato tanti pro e pochi contro e che a un certo punto nella storia della terra intorno ai 7000 anni BP quindi tempo ancora storico relativamente recente questo innalzamento determina il superamento della soglia dei Dardanelli pian piano ma forse neanche tanto pian piano perché hanno trovato un bel solco di erosione al di là del Bosforo invade questa zona dell'Europa in cui il lago c'era ma in cui c'erano anche delle popolazioni che localmente si consideravano evidentemente un universo che peraltro viveva in una zona molto fertile perché siamo nell'alto della mezzaluna fertile e si ritrovano questo mare che avanza e che quindi è un diluvio universale che ritroviamo nella Bibbia che ritroviamo nell'epopea di Kilgamesh quindi nelle tavolette vero o falsa certo è interessante ed è intrigante quello che è certo è che il Mar Nero resta un mare molto particolare ad esempio per la sua stratificazione anomala che vede un fondo dolce e un alto salato per mancanza di convezioni all'interno e che ci fa pensare che insomma qualcosa di strano nella sua storia ci deve essere ecco grazie io vorrei solo ricordare interrompo la condivisione vorrei solo ricordare che io sto lavorando su questi argomenti perché mi diverto molto mi piace trovo che riuscire a dare queste connessioni sia un modo veramente attrarre attirare l'attenzione degli studenti e riuscire in qualche modo a farli appassionare per le scienze della terra perché non finiscono lì si allargano alla letteratura all'arte e quindi ne ho fatto un articolo ne sto finendo un articolo lungo è un progetto didattico per chi fosse interessato grazie grazie mille Susanna allora se non ci sono o se ci sono domande o curiosità per la presentazione della professoressa Occhi Pinti e spunti per la didattica molto interessanti e interdisciplinari nessuna domanda comunque poi manderemo il video la registrazione a tutti quindi insomma avranno modo poi di risentirlo e di e di approfittare di questi spunti che sono stati forniti allora se non ci sono altri interventi penso che possiamo salutarci io ringrazio il professor Franchi il professor Furlani e la professoressa Occhi Pinti grazie mille per aver scettato l'invito di Geologicamente e ci rivediamo alla al prossimo numero dell'uscita di Geologicamente e quindi poi ai seminari che organizzeremo nei prossimi mesi non so se Enrico vuole aggiungere qualcosa se è ancora in linea ci sono ma hai già detto tutto te il prossimo numero arriverà a marzo e ovviamente come sempre sarà disponibile cartaceo per i soci della società geologica italiana e appena possibile anche disponibile poi in pdf sull'online va bene allora grazie mille a tutti per aver partecipato e a presto buona serata arrivederci grazie arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti